Il 28 gennaio parte Obiettivo Consulenza, un nuovo format realizzato da Rete Economy in collaborazione con Sinergia Consulting Group. Sulle poltrone che vedete qui dietro si avvicenderanno i colleghi che con approccio critico analizzeranno le principali novità di normativa fiscale. Le prime 5 puntate saranno interamente dedicate all'analisi critica della legge delega fiscale che entro marzo 2015 dovrà trovare il suo compimento. Quindi non perdete l'appuntamento in Prima TV tutti i mercoledì alle ore 18 su Rete Economy canale 816 di Sky. Obiettivo Consulenza, l'analisi critica dell'attualità fiscale. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS